Che stai facendo qui? Non vuoi proprio darmi retta, vero? Torna a casa. Perché non te ne vai, amico? Perché non stai zi? Va, perché non te ne vai tu? Lasciali stare! Aspettila! Sono amici miei, sono amici miei! Fred, non fai niente? Sì. Verrò un altro bicchiere. Forza! Che cosa fai qui? Tu vieni con me! Sei pazzo! Sì! Ehi! Fermo, amico, sono un poliziotto. Mani contro la ringhiera, forza! Pensi di essere più veloce di una bella pallottola? Vera, vattene! Vattene! Oddio queste stronzate del karate. Adesso sei in arresto per aggressione a un agente di polizia. Bella stronzata. Avanti, muoviti e tira sul culo. Su, metto! Va bene, tipo giuro. Vuoi combattere, eh? Fatti sotto. Qualcuno ha chiesto il poliziotto. Fermatili! Fermatili! Voi, stanno ammazzando. Fermo! Che è successo? Non lo so! Polizia! Eh, prendetelo! Non ci ha tospacato! Non ci ha tospacato! Non ci ha tospacato! Senti, sono un agente. Il distintivo è nella tasca posteriore, destra. Mi scusi. Complimenti, bel lavoro. Que achieved. Il